Davide Crippa, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Voi avete una posizione meno rigida su possibili candidature di centrodestra? Guardi, io in questo momento gradirei fare una puntualizzazione. Noi dovremmo ragionare su un profilo con le caratteristiche istituzionali e la capacità per poter fare il Presidente della Repubblica. Non inizierei a mettere veti né da una parte né dall'altra rispetto all'origine politica. È evidente anche che, a mio avviso, per evitare di andare a intasare il tavolo evidentemente e aprire quindi un dialogo costruttivo debbano essere avanzate delle proposte che non siano schierate politicamente in maniera forte. Questo è evidente per evitare di creare una difficoltà al tavolo. Scusate, ma ho un ritorno fastidioso della mia voce. Prego. Daniela? Questo significa che la candidatura di Riccardi proprio non è stata fatta? È stata votata scheda bianca proprio per non bruciarla e condividerla ad un tavolo aperto a tutti i gruppi parlamentari? Ma sicuramente la candidatura di Riccardi è una candidatura che non si può connotare politicamente del Movimento 5 Stelle. È un profilo molto alto, istituzionale, che può ricoprire sicuramente la carica di Presidente della Repubblica. Però non lo andiamo oggi a mettere in una votazione così connotandolo politicamente. Ma quel gesto che abbiamo fatto rispetto anche al dialogo avanzato con le forze di centrodestra è quello di trovarci per discutere insieme di questo profilo e se loro hanno profili equivalenti di discutere su quali profili poter avanzare una candidatura unitaria. Perché io credo, e di questo ne sono convinto, che oggi rispetto alla linea per cui l'unico punto di caduta deve essere quello dell'elezione nell'attuale Presidente del Consiglio, è un po' un rischio grossissimo che questo Paese non può correre per due semplici motivi. Il primis, veniva già detto, non abbiamo concluso il periodo pandemico, la gestione del PNRR e per di più abbiamo oggi una pandemia energetica che sta rendendo quasi vani gli sforzi economici messi in piedi nel nostro Paese. Oggi con questa situazione immaginare un cambio di governo vorrebbe dire di fatto consegnare al Paese un messaggio che per due mesi tra elezioni, sottosegretari, gli staff di diretta collaborazione, da qui a quando la parte burocratica dei ministeri si rimette in funzione, il Paese rischia due o tre mesi di stop. E noi dobbiamo dare una risposta certa a famiglie e imprese di innanzitutto un ristoro immediato delle attività della pandemia e per di più anche per i costi energetici elevatissimi. Torneremo da lei, onore Crippa, tra poco. Questo è soltanto un lancio. Voi potete fare una scelta diversa da quella che farà il PD? Noi dobbiamo fare una scelta come abbiamo oggi lanciato di nuovo un messaggio di unità, cioè quella che di fatto si deve discutere tutti insieme. Evidentemente non può essere una scelta divisiva. Noi oggi stiamo dicendo a tutti di evitare divisioni rispetto all'origine dei candidati messi in campo ma valutare le qualità e i profili. E qua allarghiamo a tutti, compresi ovviamente il fronte e il centro-sinistra, il dialogo costruttivo. Onorevole Crippa, è corretta l'interpretazione dell'onorevole Uninari? Sì, questo ovviamente è anche un invito alla parte del centro-destra di non esprimere ovviamente pregiudizi preliminari come talvolta qualcuno ha fatto un po' attrapelare rispetto alle candidature che in qualche modo sono state avanzate, proposte da vedese quella di Riccardi. evidentemente non può essere associato a un fronte tra Movimento 5 Stelle, PD e l'EU. È una candidatura che credo debba essere valutata in un contesto in cui gli schieramenti non mettono veti rispetto alla provenienza ma si ragiona veramente nel merito e nei profili istituzionali. Volevo aggiungere un elemento, Bruno, relativo ai 5 Stelle che è quello legato proprio allo scenario che vede appunto Draghi verso il Colle, un nuovo esecutivo. In questo caso, ragionavamo prima con l'onorevole Crippa, naturalmente un nuovo esecutivo dovrebbe per i 5 Stelle, per statuto, essere sottoposto al vaglio della rete e il cui esito potrebbe anche essere a sorpresa diverso rispetto alle aspettative e potreste non far parte della nuova compagine governativa. Guardi, noi questo l'abbiamo detto sempre a tutti in modo molto chiaro. Noi dobbiamo ovviamente sottoporre ai nostri iscritti l'ingresso all'interno del nuovo governo. Una nuova compagine governativa con un nuovo premier evidentemente presuppone il voto in rete e quindi conseguentemente potrebbero essersi una maggioranza diversa con un nuovo governo che a quel punto può non vedere per forza l'ingresso del Movimento 5 Stelle. Questo è un po' un tema che credo sia estremamente delicato e debba essere valutato con estrema attenzione associandolo all'idea di spostare il Presidente Draghi che ha ancora un bel percorso da fare e su cui noi nutriamo delle grandi aspettative per riuscire a chiudere quel percorso che abbiamo intrapreso anche con fatica più di un anno fa. Evidentemente bisogna valutare tutte le conseguenze e i rischi che può trascinare l'idea di spostare il Presidente Draghi al Presidente della Repubblica. Scusi, forse non ho capito io e sicuramente mi sono distratta, ma solo per Chigi dovete presentare il nome in rete e invece per il Quirinale? Guardi, per statuto è l'ingresso all'interno di una compagine governativa, cioè quindi se il Movimento 5 Stelle può e deve sostenere il nuovo governo per per suppostare un voto in rete. Per quanto riguarda il Quirinale è una scelta che spetta al Presidente, in questo caso Conte, e ad oggi ha ritenuto, credo anche correttamente, che in un percorso, visto come è variegato, che non potesse prescindere da avere dei candidati di bandiera del Movimento 5 Stelle, ma si ragionasse veramente di trasversale e di possibilità di discutere con tutti dei nomi per poter costruire una vera candidatura unitaria. Mi pare di aver capito le parole di Onore Crippa che il Movimento 5 Stelle vuole che Draghi resti a Palazzo Chigi. Punto e basta. Questa è la sostanza. Non è un veto, però, abbia pazienza. Non è un veto, però, è evidente che... Allora, la legge spremesso che Draghi sarebbe benissimo a Quirinale, come sta benissimo a Palazzo Chigi, nella vostra opinione, nell'interesse del Paese, sarebbe più utile che rimanesse a Palazzo Chigi. Questo è il punto, insomma. Non è scontato la nostra permanenza in un governo successivo, visto che deve essere sottoposto a un voto in rete. Questo ci tenevo a precisare rispetto a questo. Se già un momento, Giuseppe Conte, un frammento della sua dichiarazione. Io dico che Casellati, forse, al Movimento 5 Stelle potrebbe essere... Forse dobbiamo tornare. Nel 2018 evidentemente si votò la Casellati perché c'era l'accordo di votare Roberto Fico, Presidente della Camera dei 5 Stelle. Quindi erano ben altri tempi. Io credo che, al di là di esprimere considerazioni su nomi, su cui credo che nemmeno Tajani abbia confermato quale sia la composizione della lista dei 5 nomi, eviterei di andare a dire come ci comportiamo su un nome che non è stato confermato. Per cui, evidentemente, credo che debba aspettiamo. Io ribadisco su questo, condivido l'approccio anche della collega Malpezzi. Cioè, a nostro avviso, presentare una lista di 5 invece che continuare su un percorso di dialogo come quello che è stato avanzato e di cui, peraltro, oggi abbiamo visto e dato più volte anche notizia rispetto ai vari leader di partito e i dialoghi che loro hanno. Cioè, eviterei di separare con la presentazione di una lista di 5 candidati. Mi permetto, ma la lista non vuole essere qualche cosa per andare contro. Per sedersi al tavolo uno fa le proposte, la sinistra farà le sue proposte e poi si cercherà di raggiungere un accordo. Allora, torniamo alla proposta che abbiamo avanzato proprio domenica, cioè quella di arrivare a sedersi tutti attorno al tavolo. Perché ad oggi van benissimo le interlocuzioni, però oggettivamente bisogna poi arrivare, quantomeno, a un confronto diretto. E su questo confronto, credo, possiamo costruire bene. Io ho sempre un po' paura, quando si presentano le liste, che poi dall'altra parte ci siano un'altra controllista e poi li togliamo dal tavolo e iniziamo a ragionare. Io vorrei chiedere all'onorevole Crippa, invece, che è con Daniera Di Marzo, se prima lui ha avuto parole, diciamo, di grande equilibrio, di grande buonsenso, dice non ci scontriamo su un nome piuttosto che un altro, insomma, vediamo un momento. Ma ci spieghi un momento, come si esce da una trattativa senza far nomi? Il problema non è uscire da una trattativa senza far nomi. Oggettivamente, anche le considerazioni che sono state fatte poco fa partono da un presupposto che, qualora Mario Draghi andasse al Quirinale, magicamente ci sarebbe la stessa compagine oggi che sostiene il governo di unità nazionale a sostenere, pronta a sostenere, un nuovo governo. Senza la fatica che abbiamo fatto a individuare un Premier con un'alterorezza, una trasversalità e anche la fatica di rispondere all'appello del Presidente Mattarella per un governo di unità nazionale, magicamente questo, diciamo, problema potrebbe essere ovviato subito con un'altra persona. Io non la vedo così semplice, anche come dicevo prima, per un collegamento diretto con una votazione che noi dovremmo fare anche in rete. E poi, oggettivamente, io credo che lo scenario che abbiamo davanti, cioè la portata e l'altezza di Mario Draghi, oggi a noi serve come Presidente del Consiglio anche per andare poi a trattare le variazioni del patto di stabilità in Europa. Cioè, è evidente che il ruolo di Presidente della Repubblica non è quello che andrà a trattare con gli altri Presidenti europei per la modifica del patto di stabilità. È il Presidente del Consiglio che ha questo ruolo. Quindi, a me serve veramente che quella figura tecnica istituzionale possa portare oggettivamente a modificare quelle regole che potranno permettere, sì, di rilanciare l'economia italiana. Cioè, questo è un punto importante. Io non lo vedo così semplice spostare una figura da una parte all'altra senza che nulla cambi. Conti dire a questo domani al Premier Draghi, nell'incontro che non avete confermato, ma che probabilmente già con un contatto telefonico è stato stabilito? Io credo che domani, insomma, visto che sono state incontrate tutte le altre forze politiche, ci sarà un incontro con il Movimento 5 Stelle. Oggi c'è stato un primo contatto telefonico rapidissimo. Però, oggettivamente, il Movimento ribadisce la necessità di proseguire un'azione di governo per i cittadini che dia delle programmazioni di risposte economiche immediate utilizzate, dai ristori, come dicevo prima, ma anche con la necessità di programmare quello che succederà al Paese nelle prossime ore. Cioè, le risposte al PNRR, se stanno ferme per due o tre mesi per tutta la gestione amministrativa burocratica di individuare l'apparato nuovo del nuovo governo, cioè, non credo che l'Europa ci regali due o tre mesi in più solo perché abbiamo fatto un cambio di governo. No, ma il discorso del loro equip è ineccepibile. Però, chi è favorevole invece al fatto che Draghi vada a Quirinale dice che la sua credibilità è tale che lui, in qualche modo, per un periodo molto lungo, sette anni, sarebbe anche il garante, in qualche modo, senza arrivare al semipresidenzialismo di cui si è favoreggiato. Insomma, il Presidente della Repubblica, se vogliono essere forti, sono forti. Lui potrebbe essere il garante che le cose in Italia possano continuare nella maniera virtuosa sulla quale sembriamo avviati. Questa è la tesi di chi sostiene che Draghi al Quirinale non farebbe danni al Paese. Però, naturalmente, è legittimo anche quello che dice lei, cioè che Draghi, stando a Palazzo Ghigi, può meglio di ogni altro proseguire nel suo programma. Il problema è le condizioni politiche in cui questo dovrebbe avvenire. E questa è la grande incognita. Le trattative sul PNRR che hanno portato a casa i miliardi che oggi stiamo utilizzando e investendo sono state portate avanti dal Presidente Conte, non dal Presidente Mattarella. Per cui, oggettivamente, quelle trattative che dovranno far uscire dai vincoli rigidissimi, che purtroppo rischiano di ritornare, dovranno essere portate avanti, a mio avviso, da persone in grado, anche perché conoscono benissimo quei meccanismi e sanno benissimo quali sono le difficoltà per un Paese come il nostro di applicarli. Grazie, Onorevole Crippa, grazie a Daniela Di Marcio.